E lasciamo la nostra gara bodistica di Trotica ed andiamo a 9, siamo sempre la domenica 20 marzo per la finale nazionale dei campionati studenteschi, giochi sportivi studenteschi e anche il campionato italiano per regioni cadetti e cadetti che vale anche come titolo individuale. 9 è una cittadina a una ventina di chilometri da Vicenza, la provincia, ma vicinissimo a circa 7-8 chilometri c'è Marostica, ricorderete Marostica come la città della partita degli scacchi viventi con tanto di piazza, vedete sono tutti scacchi con la parte in marmo e qui c'è la sfilata, questa cittadina che è nota per quanto riguarda soprattutto oltre che naturalmente la partita degli scacchi anche per le ceramiche, le bellissime ceramiche che vengono prodotte da queste parti e le varie rappresentative che sfilano in questa piazza, malgrado la pioggia devo dire è iniziata piuttosto tardi, doveva essere programmata per le ore 18 invece è andata da slittare di circa un'oretta, alle 19 è iniziata la sfilata quasi buio con Alex Svazzer che va ad accendere la fiaccola, Svazzer campione olimpico nella 50 chilometri di marcia eccoci qua con l'accompagnamento qui dei vari sbandieratori, c'erano anche in piazza i tamborini, tutta la parte folcloristica diciamo di questa partita degli scacchi con il nostro pubblico attentissimo e presente, vedete continua la pioggia a battere, si vede benissimo e uno dei nostri sbandieratori comunque non battono ciglio per questa manifestazione eccolo qua con il momento finale, con i tamborini, poi c'è stato anche il discorso del sindaco e così via. Ed ora siamo nella giornata di domenica, fortunatamente una bella giornata di sole, siamo proprio ai margini del fiume Brenta nell'area golenale, un percorso vetto completamente erboso, ben tracciato l'organizzazione è quella dell'Atletica Marostica Vimar, una società di antiche tradizioni eccoci qua che siamo con la gara qui del categoria allieve diciamo con la nostra bandina, vedete la tetta più alta, magliettina bianca che gareggia per la Mamiani, il liceo classico Mamiani di Pesaro e intanto c'è la Roscalla, Maria Cristina Roscalla che tenta di fare il vuoto atleta di Pavia, gareggia per il liceo Foscolo ecco qua, sono due giri di questo percorso, un giro più corto, un giro più ampio sempre con la Roscalla, Maria Cristina Roscalla che ha impostato la gara sul ritmo dietro c'è la Clemente in seconda posizione della con numero uno e poi c'è anche la Vandi che attualmente attorno alla sesta, settima posizione non è partita sicuramente, cioè è partita bene ma poi nell'allungo della Roscalla si è lasciata un po' andare, vedi intanto che la Clemente, Anna Clemente attenzione la marciatrice, gareggia per l'istituto comprensivo Belisario di Ginosa lei che ha vinto il campionato, le Olimpiadi diciamo, le Olimpiadi giovanili a Singapore nella marcia, vedi, si difende anche nella corsa, lei che ha un ottimo tempo anche nei metri duemila, regoli italiani nei metri duemila per quanto riguarda le cadette, ecco ora l'attacco della Clemente nel tratto finale, mancano ora circa 100 metri alla conclusione la Clemente ha preso la Roscalla, dietro la Vandi, Bazzi sta battendo con Papa più indietro c'è anche Cristin Santi che ha vinto il titolo italiano scorso anno nei metri duemila, ecco vittoria di Anna Clemente sei e trentuno per Anna Clemente, la Roscalla sei trentatré Eleonora fa sei e trentasei, la ragazza di Pesaro c'era papà e mamma, naturalmente immancabili poi c'è Isabella Papa al quarto posto, Cristin Santi al quinto la Bonetto è sesta, la Graziani settima, Biondi ottava Ottonello nona, il decima è la Indrizzi undicesima ecco qua il risultato, al dodicesimo posto c'è la Dell'Era vediamo i primi dodici classificati, ecco qua Anna Clemente al podio con la Roscalla sulla sinistra, Clemente quindi di Taranto la provincia, la Roscalla, Lombardia, Pavia e per le Marche Edonora Vandi ed ora andiamo a seguire la gara invece delle cadette qui nate le 96 e 97, eccole qua, sono un centinaio alla partenza e subito è una bella lotta, siamo qua le ragazze del Friuli e della Sicilia e là con le magliettine gialle, poi il Veneto con la magliettina rossa e qui per le Marche abbiamo in particolare Binta Mamadou Diallo ragazzina che gareggia per l'Avis Macerata e rappresenta le Marche ma intanto c'è questa atleta, veramente questo è un talento incredibile si tratta di Svetlana Nicole Reina, atleta della Lombardia polisportiva a Novate e la sua società, si era già parlato nei forum perlomeno di questa ragazzia, tutti ne parlavano molto bene di grandi possibilità e effettivamente mi ricorda un po' la Santini che parte a tutto, fa girare sempre le gambe, eccola qua non guarda assolutamente dietro, efficace nella spinta anche se i piedi non sono sicuramente di una che potrebbe fare grandi cose negli otto, comunque molto efficace e spinge di tutta con il massimo impegno la Reina guardate che grinta, netto il vantaggio su tutte circa 80 metri di vantaggio dietro c'è Angelica Olmo in seconda posizione e chiude in 6 e 19 pensate ha fatto meglio delle allievi, era lo stesso percorso la vittoria prima della Clemente era stata in 6 e 31 lei ha fatto 6 e 19 e poi la Olmo 6 e 37 sempre atleta della Lombardia poi per la Puglia c'è Marica Barbieri 6 e 41 poi abbiamo e la Ufi Bahia della Toscana poi Amodio Banchialem poi c'è la Busatto e la settimo posto c'è Mamadubinta di Allò l'atleta della provincia dell'Abis Macerata ecco qua il risultato finale con le ragazze i distacchi rispetto alla prima settimo posto quindi per la nostra atleta un buon risultato per la Diallo eccole qua sul podio ed ora dopo questa premiazione andiamo a guardare la gara invece per titolo italiano per i cadetti qui abbiamo una buona squadretta a livello marchigiano con Rocchetti Costantini in particolare ma poi c'è anche Elia Cicalè l'atleta della Maxi Car Rocchetti e Costantini che appartengono Rocchetti proviene dall'Asa di Ascoli e Costantini la Seffe Stamura di Ancora intanto c'è qua vedete l'avvio di Saide Etaui subito che cerca di fare il ritmo poi c'è Denardi Della Rodolfa Lano e Di Gaetano subito dietro e partito pianino Elia Cicalè che attorno alla quindicesima sedicesima posizione ecco qua il gruppettino ora che si è formato sono in sei c'è un ragazzo della Sicilia Di Gaetano con la magliettina gialla poi c'è questo Etaui che era partito poi c'è Giacobazzi che lo vediamo in terza posizione per l'Emilia Romagna e Cicalè eccolo là vedete Marche attorno vediamo un po' se riusciamo a capire qual è la sua posizione attorno alla quindicesima forse anche un pochettino più indietro due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici sedicesimo posto eccolo là vedete con le Marche ragazzo con gli occhiali sedicesimo posto quindi a partenza piuttosto prudente ecco il finale Qualessandro Giacobazzi che rimonta tutti e stacca Denard sette e trentadue il risultato finale qui erano due chilometri poi Denardi in seconda posizione per il Veneto della Rodolfa Lombardia terzo Lano e quarto per il Piemonte Etaui che aveva tirato a lungo e quinto Di Gaetano Sicilia sesto Benditti settimo e Cicalè e ottavo quindi una bella rimonta rimontato molte posizioni eccoli qua sul podio per la prima azione con queste immagini vi diamo appuntamento la prossima settimana